...girono ma poi arrivano al mare. L'unica cosa che spero è di essere ancora in grado di fare felice una donna come Caridad. Ah, sono sicuro che insieme sarete felici. Adesso che cosa ne dite di smetterla di parlare di donne e cominciare a parlare di loro? Ah, certo, siamo qui per questo, andiamo. Maria! Che fai qui a quest'ora, Maria? Scusami, Miguel Angel, ma a te non deve interessare né dove vado né da dove vengo. Sono affari miei e voglio che restino tu. No, ti sbagli, Maria. Sei la madre dei miei figli e ho il diritto di sapere la vita che conduce. Scusate, Miguel Angel, per favore. Aspetta un momento. Dobbiamo andare, si sta facendo tardi. Sì, arrivo. Vieni qui. Questo è il palazzo dove vive Fernando Saias. E tu vieni qui a quest'ora. Nel suo appartamento. No, io non vengo a quest'ora nell'appartamento di Fernando. Io me ne vado a quest'ora perché ho passato la notte con Fernando Saias. Io non vengo a quest'ora. 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 Un giorno in più